Eminenza, è la prima volta per lei qui nei luoghi di San Pio? Sì, con il cuore tante volte, con la preghiera, uniti per l'intercessione di questo nostro santo, ma fisicamente è la prima volta che sono qui e sono lieto che dalla Santa Sede mi hanno telefonato e mi hanno detto devo andare, poi te lo faccio volentieri. E che cosa ha significato finora questa visita? Ma anzitutto un'immersione dentro la spiritualità di questo santo, soprattutto mi ha molto colpito la tanta gente che ho visto ieri sera pregare con tanta devozione il Santo Rosario, la Santa Messa, quindi pregare la gente e poi i segni anche con cui la bellezza ha interpretato il messaggio religioso e l'arte, hanno interpretato il messaggio religioso e spirituale di Padre Pio con tanta efficacia. Mi devo rallegrare con gli architetti e gli artisti che ben guidati da bravi frati e teologi hanno dato un'alta espressione a quello che è il significato di Padre Pio per la fede della Chiesa oggi. È detto dall'Arcivescovo di Firenze, questo ha un significato speciale. Cosa risponde a chi ritiene che l'Italia sia un paese in cui in realtà la cultura anche cattolica sia sempre più da parte? Ma anzitutto le folle ci dicono che questo non lo è a livello di popolo. Forse le intelligenzie, i cosiddetti grandi opinion leaders, i mezzi di comunicazione di massa che spadroneggiano nella società o almeno pensano di farlo, hanno questa tendenza a emarginare il dato religioso. Ma la gente, il popolo, la gente povera, semplice, che si riunisce intorno ai suoi santi, ci dice che l'animo profondo della gente è ancora legato a un'aspirazione al bene e alla santità che trova nella Chiesa una risposta credibile per la gente. Un'ultima domanda, se mi posso permettere. Poiché siamo in un periodo in cui la violenza sembra dilagare e a lei è successo negli anni passati di subire un atto di violenza duro. Una persona le ha puntato una pistola proprio alla tempia. Cosa vuole rispondere a chi ha sempre più paura? Lei come l'ha affrontato? Ma anzitutto il mio pensiero va al mio segretario che in quell'occasione fu ferito e ancora porta nel suo corpo il proiettile che lo ha colpito quel giorno, grazie a Dio, senza conseguenze ulteriori. Però questa dedizione di una persona che mi ha dedicato otto anni della sua vita, adesso ho cambiato il mio segretario, l'ho mandato parroco come lui voleva, quel Don Paolo, quindi anzitutto il pensiero a lui. Poi devo dire il sentire il Signore vicino a me perché ho potuto affrontare quel momento con grande serenità, con grande padronanza della situazione, invitando appunto chi mi stava minacciando a parlare, a collochiare, a poter desistere da questo suo gesto. E poi la forza che il Signore mi ha dato di dire subito una parola di perdono, per questo dobbiamo, anche perché chi fa questi gesti viene da situazioni e da cammini di vita così infelici che lo facciano spontaneamente o che siano indotti da altri. C'è tanta sofferenza dietro queste persone che fanno il male che dobbiamo capirli per poterli rindirizzare sulla strada del bene. Grazie doppiamente anche per queste parole, Eminenza. Grazie.